Ciao! L'hai trovato? Certo! Salve! Bravo! Ma non è il giudice della Corte Suprana, Anthony Kelly? Forse è solo uno che mi somiglia. Sì, come possiamo esserne sicuri? Mi ha stato detto che i partecipanti vorrebbero fare in fretta. Sì, non mi resta molto tempo da vivere. Ho capito. Firmi qui, prego. Ok, grazie. Mi serve una penna. Grazie, Esther. Sei molto gentile, tesoro. Cosa? Ok, presumendo che verrà autenticato, vi dichiaro marito e moglie. Sì! Sì!